ben trovati amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è martedì 28 maggio 24 sono le 7.01 iniziamo insieme la giornata dando un'occhiata ai giornali all'arresto del carlino e al corriere adriatico soprattutto le pagine locali ma intanto iniziamo come sempre con l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi ecco la grafica si tratta di san germano di parigi che visse tra il quinto e il sesto secolo era il tempo dei merovingi in francia fu protagonista del consolidamento della chiesa e della monarchia in questo paese fu vescovo di parigi e si distinse per le sue opere di carità e per le fondazioni di chiese e di monasteri morì nel 576 e fu subito venerato come santo il suo corpo fu poi fu traslato 200 anni dopo dal re pipino il breve che lo ripose sotto l'altare della chiesa di san vincenzo che da allora prese il nome di san germain deprè ovvero il nome di germano questo è san germano di parigi vediamo ora le previsioni del tempo cambia cambia il tempo e diventa più perturbato tempo instabile con rovesce temporali in sconfinamento anche verso le aree costiere dall'entroterra vediamo le temperature 15 la minima 23 la massima i venti sulle coste espireranno da una direzione di nord e nord est mentre nell'interno più spiccatamente da est il mare è quasi calmo e il sole il sole è sorto alle 5 e 30 e tramonterà alle 20 e 38 questo un po' il il quadro della giornata una giornata insomma sulla costa tanto e quanto tra schiarite e annuvolamenti mentre nell'entroterra qualche pioggia forse potrà verificarsi ma noi diamo un'occhiata ai giornali partendo oggi dal resto del Carlino dove vediamo una decisione della fondazione Carifano in apertura ebbene la fondazione fa un passo indietro rispetto alla realizzazione di un progetto che aveva annunciato quello della realizzazione del museo dedicato al grande scultore scomparso di recente Vangi Vangi che è l'autore della statua della Concordia posta sulla fontana di piazza Ammiani le sue opere avrebbero dovuto costituire un museo a Palazzo Bracci Pagani però sembra che la fondazione abbia fatto non sembra affatto un passo indietro ci sono due ragioni il numero delle opere messe a disposizione dalla famiglia non sarebbe sufficiente a creare un vero e proprio museo dedicato al maestro e poi c'è da dire che la creazione di un'opera simile nel capoluogo di Pesaro insomma avrebbe sminuito magari quella di Fano e quindi insomma si è fatto un passo indietro già nel 2022 quando si parlò di un museo Vangi nella città capoluogo al piano terra di Palazzo Mazzolari Mosca la notizia era stata accolta con stupore dalla fondazione Cassa di Risparmio che aveva già annunciato l'idea di un museo e questa così contrapposizione con Pesaro insomma aveva destato qualche perplessità anzi più di una perplessità una notizia di cronaca a fondo pagina sul resto del Carlino un incidente automobilistico procurato da una quarantenne in via Fabio Filzi nei pressi del Lido a Fano con la sua Smart ha danneggiato pesantemente due auto parcheggiate sulla strada poi ha pensato bene di fuggire di darsela a gambe ebbene però parte della sua targa era stata annotata da un testimone che ha visto la scena quest'ultimo ha allettato i vigili urbani che poi con un supplemento di indagine sono riusciti ad individuare l'automobilista e quindi a metterla di fronte alle sue responsabilità l'incidente si è verificato intorno alle 19 di domenica scorsa e poi vediamo un articolo un po' originale lo spot di seri nella social top 10 risate sfottò a propaganda live c'è una trasmissione una trasmissione che rileva un po' le curiosità degli spot elettorali che pubblicano e promulgano i candidati alle prossime elezioni quelle dell'8 e 9 giugno ebbene all'attenzione sono finiti i due sindaci delle nostre località Fano Massimo Seri e Pesaro Matteo Ricci ebbene il messaggio elettorale del sindaco è finito in una trasmissione di tipo satirico si tratta dello spot di seri che fa riferimento ad una panchina con l'emblema europeo sia seri che Ricci sono candidati alle elezioni europee mentre quello di Ricci fa riferimento ad una cravatta che a un certo punto si sposta e il messaggio è che Ricci va contro vento insomma e quindi ci si è risi un pochino sopra e qui c'è un articolo che evidenzia questa situazione però quello sottostante è un articolo diciamo più concreto più pragmatico si tratta di una nuova iniziativa della Confcommercio la Confcommercio da tempo come ha fatto per il resto l'assessorato al turismo del comune di Fano ha individuato l'enogastronomia come una forza attrattiva del nostro turismo la gente viene in vacanza nel nostro territorio perché qui si mangia bene ci sono prodotti genuini ma soprattutto a promuovere la produzione del nostro territorio i prodotti a chilometro zero sono le sangre e le feste che si svolgono nell'entroterra e sono tantissime e sono veramente di alta qualità allora la Confcommercio ha pensato bene di premiare il 31 maggio alle ore 16 nella sala ipogea della Mediateca Montanari si premieranno i vincitori della prima edizione di questa iniziativa che premia le feste di maggiore qualità che si svolgono nel territorio e quali sono queste feste? sono la Fiera dei Cavalli di Cantiano la Mostra Mercato dell'Olio e dell'Oliva di Cartoceto la Festa della Pera Angelica di Serungarina la Festa del Nino di Sant'Andrea di Suasa la Festa della Tratta e la Sagra dei Garagoi di Marotta la Spaghettata di Mandolfo il Pergola Doc Rosso un vino buonissimo di Pergola la Sagra del Castagnolo la Crescia Sfogliata di Urbino e poi anche un'iniziativa sportiva che valorizza un po' diversi comuni che è quella della Colle Marathon sono iniziative queste che danno spessore che danno gusto, sapore al nostro territorio e verranno appunto premiate venerdì prossimo alle ore 16 nella sala ipogea della Mediateca Montanari vediamo ancora sulla pagina del resto del Corlino una bella iniziativa che si è svolta a Dorciano si tratta di gioca insieme domani al campo sportivo si incontreranno tre generazioni i ragazzi, i giovani e gli anziani si tratta di persone anche che frequentano i centri per disabili fino ai nonnini della casa di riposo domani alle 9.30 al campo sportivo si terrà l'undicesima edizione di questa iniziativa organizzata dal centro educativo di Urno Il Mosaico con la compartecipazione del comune Terre Roveresche dell'ambito sociale 6 del comitato italiano parolimpico poi c'è anche la collaborazione della Proloco di Orciano della scuola primaria ed il contributo della BCC del Metauro ebbene ci saranno tanti eventi sportivi bowling e tanto altro ma l'importante è stare insieme e soprattutto incentivare l'integrazione di queste persone e poi un'altra manifestazione che viene evidenziata qui al centro pagina che si è svolta al Triss di Terre Roveresche oltre 2.000 spettatori per la Sanremo del Ballo ebbene è una iniziativa si tratta di Taglia Musica che ha visto esibirsi una ventina delle migliori formazioni italiane nel settore dei balli di coppia di gruppo e di latinoamericani è uno spettacolo veramente molto bello che fa sì che non si riesca a star fermi nemmeno da parte di chi guarda lo spettacolo perché poi la musica mobilita attiva e fa compartecipazione con quello che si svolge in pista verso il voto a San Lorenzo in campo la sfida di Bartocci l'avvocato Valeria Bartocci che vuole diventare il nuovo sindaco di San Lorenzo in campo un programma che fa riferimento a tutta la vallata perché San Lorenzo costituisce un punto di riferimento importante per la valle del Cesano e tra le finalità da perseguire da questa lista si tratta di un modello di sviluppo che deve soprattutto riuscire a imporsi nonostante il calo demografico quasi un 10% che si è verificato nel territorio ma soprattutto si vuole dare impulso alla economia e così poi insistere molto sulla cura e la manutenzione delle infrastrutture che sono molto importanti a Urbino a Urbino Gambini vuole rimuovere la gru del centro commerciale di Nuova Porta Santa Lucia che è stato inaugurato nel 2014 ma che è rimasto ancora così insomma con degli elementi che servivano per la costruzione e che non sono stati rimossi però insomma le polemiche continuano come evidenzia il titolo iniziato lo smontaggio dei bracci che sono stati usati per costruire il centro commerciale l'opposizione è sarcastica beh ci voleva proprio le elezioni per smobilitare il tutto ma parliamo del premio Rotondi di questo premio di levatura nazionale che viene realizzato a Sasso Corvaro dove si rievoca quello che un uomo amante dell'arte nel secondo conflitto mondiale ha salvato tanti tanti capolavori salvandoli dalle mire tedesche e dalle bombe anche degli alleati custodendo queste opere d'arte nella rocca di Sasso Corvaro ebbene la settimana che porta al premio è preceduta da una iniziativa che si chiama Art Weekend che anima questi giorni con appuntamenti dedicati all'arte e alla cultura per destinatari di tutte le età e tutto questo si inserisce anche nella partecipazione di Sasso Corvaro alla capitale della cultura capitale nazionale della cultura che vede protagonista Pesaro il quale ha compartecipato a questa bella iniziativa anche i comuni del territorio vediamo anche quest'altro articolo che fa riferimento sempre ad Urbino e prende le mosse da una presa di posizione di Michele Felici Michele Felici è l'ex capo dell'ufficio tecnico del comune di Urbino il quale parla del rinnovamento della rete idrica necessario però insomma sembra che ci siano dei problemi per chi deve decidere e soprattutto dove deve essere fatto si tratta di utilizzare un maxi finanziamento di 27 milioni di euro molto molto importante molto oneroso che proviene però dal PNRR ed ora apriamo la pagina di Pesaro sempre sul resto del Carlino per parlare di un tema che interessa un po' tutti un po' tutti quelli della nostra provincia ma anche oltre quello degli autovelox ebbene la nuova presa di posizione del governo che ha varato nuove norme per l'installazione di questi dispositivi che intendano limitare la velocità nei tratti più pericolosi delle nostre strade fa suscita delle polemiche e suscita anche delle innovazioni propone delle innovazioni sono innovazioni che riguardano soprattutto il fatto che non si possono installare autovelox con limiti al di sotto dei 50 km orari nelle nostre strade non credo che ci siano questi limiti corredati da autovelox però insomma è sempre il prefetto che deve decidere se quel meccanismo se quell'impianto può essere installato in quella strada se c'è veramente necessità se lì si sono verificati incidenti tali da convalidare questa decisione oppure no allora questo è un articolo che deve essere letto insomma e poi incentiva anche la curiosità autovelox è stretta sull'utilizzo ma intanto alcuni sono spenti il motivo è semplice gli apparecchi non sono omologati e la nuova normativa delega al prefetto l'individuazione delle strade da controllare e quindi ci sono novità novità per quanto riguarda questa situazione sul resto del Carlino si danno poi ulteriori particolari sulla fuga di un detenuto che era stato ricoverato in un centro di riabilitazione è approfittato appunto di un attimo di disattenzione delle guardie ed è scappato ma è stato subito ripreso approfitta di una visita per liberarsi degli agenti ma è stato trovato dai carabinieri e si era nascosto in un capanno determinante l'indicazione di una vigilessa si tratta di un algerino di 30 anni che ha approfittato per fuggire ebbene era anche un detenuto che doveva rispondere di reati piuttosto importanti come violenza sessuale e tentato omicidio e però è stato rimesso in caccia e allora diamo un'occhiata anche al Corriere Adriatico dove l'apertura è dedicata alla esigenza ormai condivisa da tutti i candidati alle prossime elezioni amministrative di realizzare a Fano un nuovo palasporte ebbene la mossa decisiva è stata data dalla Virtus che ha vinto il campionato e quindi è stata promossa in A2 ebbene non si vuole ripetere quello che accade alcuni anni fa quando la Virtus che aveva raggiunto addirittura l'A1 fu costretta a giocare a Pesaro ebbene lì ovviamente poi perse il campionato e retrocesse subito dopo questa volta la Virtus almeno in A2 vorrebbe restare stabilmente poi magari chissà passare anche alla cosa successiva nuovo palasporte Fanesi si impegna serve una struttura da 3.000 posti il candidato sindaco lavorerà all'opera con un privato prima l'incarico ad un professionista per il progetto ovviamente non si riuscirà ad avere questo nuovo palasporte per il prossimo campionato della Virtus però è importante iniziare subito la redazione del progetto per avviare poi tutto l'iter amministrativo la lista che punta sui diritti a Fano serve discontinuità è stata presentata la lista Europa Verde alleata con Fano Ribella a sostegno del candidato sindaco Stefano Marchigiani tra le priorità la sanità pubblica e il diritto alla salute le politiche della casa la mobilità cittadina l'ambiente l'urbanistica questi sono alcuni cavalli di battaglia di questa lista di cui il Corriere Adriatico pubblica poi tutti i nomi li vediamo qui in questa colonna e poi abbiamo una critica una critica di un direttore didattico si tratta di Antonioni Fausto Antonioni che critica quello che è stato organizzato come città dei bambini secondo Antonioni ovviamente non basta la città da giocare per convalidare quello che è stato fatto in favore dei bambini ci sarebbe voluto molto molto di più Antonioni rimprovera come ancora nel centro storico ci passino le macchine insomma una posizione critica intorno a questa manifestazione passiamo a no restiamo a Fano perché anche il Corriere Adriatico pubblica l'iniziativa della Confcommercio sui borghi del gusto questo è il nome dell'iniziativa che si svolgerà venerdì prossimo nella sala ipogea della Mediateca Montanari invece a San Lorenzo in campo via al cantiere per l'ufficio postale strutture e funzionalità rinnovati ebbene l'ufficio postale laurentino si rifà il look quindi cambia l'estetica ma cambia anche un po' la funzionalità diventerà sempre più digitalizzato con tanti servizi molto utili per i cittadini post italiani infatti presto darà avvio ai lavori di completa ristrutturazione dell'ufficio di via del Molino e questa è una bella notizia perché sono servizi essenziali nei piccoli comuni dell'entroterra le poste sono ancora molto molto funzionali vediamo anche la pagina di Senigallia di cui il Corriere Adriatico non pubblica l'apertura ma abbiamo una pagina secondaria che parla dell'assemblea straordinaria della BCC di Pergola e di Corinaldo l'abbraccio dei 900 soci un milione per il sociale e questo il reddito che viene impiegato nel territorio e poi vediamo la pagina le pagine regionali anche qui si parla della stretta sugli autovelox resteranno attivi solo per prevenire gli incidenti una intervista al sindaco Massimo Seri candidato alle elezioni europee fidatevi ha detto solo un sindaco può capire veramente quanto sposta l'Europa perché molte decisioni europee hanno condizionato la vita anche degli abitanti dei piccoli comuni è un sindaco che gestisce il comune sa quello che c'è bisogno vediamo poi ancora altre notizie che riguardano pesaro market a pantano ma noi residenti siamo in trappola in comune i nuovi documenti per un nuovo supermercato in attività dismesse poi petizioni dei residenti che temono che la viabilità non possa più reggere insomma nuovi esercizi che sono attrattori di traffico e quindi creano problemi ricci in Europa asse pesaro Roma è un fuori classe il Lazio lo voterà ebbene anche qua una presa di posizione per le prossime elezioni ed era l'ultima notizia che vi segnalo a questo punto chiudiamo i giornali e noi ci risentiamo domani sempre alle 7 grazie per l'ascolto e a risentirci grazie per l'anima notizia